Non sarai i bambini forse sono anche più svegli, ma io ho lavorato questo mese e ho avuto la cosa di lavorare accanto al mio ex fidanzato dentro una scuola e quindi di vivere i ragazzi con le insegnanti. Devo dire che questi insegnanti sono completamente senza carattere, non riescono a dare un'educazione, una rigidità agli studenti che comunque prima non succedeva, c'era una grande rigidità e non c'era proprio l'occasione di poter rispondere o fare qualsiasi cosa. Certo, comunque io penso che mi sembra che mi debba lasciarci. Si, adesso ci saluta. Si vanno davanti i bacini, muah! Stasera si esibisce, farà... Eh vogliamo dire dove si esibisce, certo. No, c'era io in piazza Aldomoro, zona noventana Fonte Nuova, io sono lì, sono ospite, chi mi sta ascoltando e chi si trova da quelle parti è il benvenuto e mi farebbe piacere. Grazie a Radio Roma, grazie a voi, grazie a Pierfrancesco Alfarella per il corso. Grazie, grazie Antonello, grazie alla regia, vi saluto. Grazie soprattutto a te da noi e comunque per salutare Emi Bergamo ci ascoltiamo un altro brano che appunto opera da appunto di Claudio Simonetti, naturalmente colonna sonora dell'omonimo film di Dario Argento. Oggi abbiamo fatto parlare la musica di Dario Argento con il film di Campanella. Bene, salutiamo Emi Bergamo, lì la regia. Ciao, grazie.